Abbiamo raggiunto l'azienda di Loris Posti, siamo in località Savio, sempre nelle Ravennate, allevatore di rassa romagnola. Eccolo qua. Buongiorno Loris. Allora, ci hanno raccontato che lei è uno dei migliori produttori allevatori di rassa romagnola. Allora, innanzitutto è un produttore storico, un allevatore storico. Da quanti anni è che la famiglia e lei alleva questa rassa? Sono venuto su da bambino, da 7-8 anni stavo già in stalla. Quindi le conosce molto bene. Insomma. Senta, quante vacche ci sono qua dentro? Fra piccoli e grandi sono una quarantina, tra i vitellini e le madri. Ci sono vacche, ci sono giovenche manze e un po' di tutto, perché io faccio l'allevamento chiuso dalla nascita. Lei ha fatto anche una ricerca genetica, quindi insomma ha migliorato la rassa. Sì, la rassa è molto buona, non è più come quelle che si adoperavano una volta da lavoro, sono molto più da carne, pelle più leggera, insomma ha migliorato. Sono docili sostanzialmente, anche se lei, insomma, mi raccontava prima un aneddoto che qualche esperienza negativa l'ha avuta, però se ne è stato un caso. Sì, ma succede, nel lavoro succede. C'è quello che va giù nel fosso con una macchina e io sono andato col toro, però per fortuna che sono andato. È andato tutto bene, è andato tutto bene. Senta, i vitellini quando nascono hanno un colore, color miele, sono sul tendente al rossastro, no? Poi dopo, quando sono adulti, i soggetti sono bianchi. Cominciano a prendere il pelo e diventano bianchi, sì. Un soggetto arriva alla maturazione commerciale a che età, questa rassa? Sui 20 mesi, sui due anni. Già è carne matura ed è pronta, si può tenere anche da oltre, però diciamo che l'età giusta è questa. Sì, sì, dai 20 ai due anni, i 24 mesi via. Qual è il cliente o comunque il consumatore che appresta questa carne e che viene a cercarla da lei? Insomma, è un consumatore che è colto, che sa cosa va a cercare sostanzialmente. Perché io la pubblicità me la fanno i clienti, perché un cliente prende la carne da noi, poi c'è un amico a mangiarla, di dove l'hai presa, ne ho da Padova, che vengono, ne ho da, uno anche dall'isola d'Elba. Addirittura? Addirittura. E tanti romagnoli. Tanti romagnoli, fra di questi c'è l'azienda Massimo Bottura. E infatti noi siamo arrivati da lei perché appunto ci segnalava che lei è un fornitore storico di questa azienda. Lui si rifornisce, ne prende molte da me perché è col lavoro che c'è lui e mi dice che quando vanno a mangiare sentono la differenza. Certo. Senta, vedo che non hanno le corna, quindi quando sono, diciamo, vengono cauterizzate a una certa età. Sì, sui 15 giorni, con uno stick oppure con la... io ho lo stick... E non soffrono? No, 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 non soffrono. Senta, e qua la fecondazione come viene fatta? Viene fatta in monta naturale oppure artificiale? No, fino al 2000 avevo il toro, l'ho sempre avuto. Dopo avendo avuto questo lavoro col toro, ho smesso il toro, ho fatto il corso e faccio fecondazione artificiale. E quindi insomma così, meno rischioso da questo punto di vista? Sì, meno rischioso e poi doperi molti sangui di tori, puoi fecondare, più incroci puoi fare, più linee diverse che doperando sempre quel toro lì, perché se c'è il toro lì in mezzo, feconda anche, non dico, le figlie, ma... Questa è una rasta che un tempo veniva usata anche da lavoro, no? Poi, quindi, come si dice, ha più triplice attitudine, quindi lavoro, carne e anche latte. In questo caso solamente carne. Sì, noi adesso è da carne, il lavoro non si, non si operano più le mucche per lavorare, adesso le facciamo da carne. Qual è l'alimentazione che si dà a queste bovine? Io, guardi, è foraggio che produciamo noi, il mais lo produciamo noi e mangiano foraggio e farina di mais che produciamo noi. Quindi è un, diciamo, una filiera chiusa da questo punto di vista. Chiusa, chiusa e la carne è diversa che mangiare del mangime, non voglio criticare il mangime, ma... Sì, ma solo lei accudisce queste macchie oppure c'è anche il figlio, eh? Allora, chiamiamo qua anche Simone, dico bene? Ciao Simone. Allora, tu hai ereditato, stai ereditando, insomma, questa passione del papà. Come avere un insegnante, lo chiamo così, come tuo padre? È un'esperienza, cioè lui c'è nato, io dopo gli studi mi sono fermato qui, perché comunque c'è la libertà. E quindi tu sei, anche tu sei imprenditore agricolo e quindi lavori in azienda e hai come, diciamo, obiettivo quello di portare avanti anche questa tradizionia di elevatore. Sì, tutto... In programma hai qualche idea diversa rispetto a quello che tuo papà ti ha trasmesso? Questo è ancora difficile saperlo, cioè, si vive al presente, si vive al presente, perché comunque con i tempi che corrono, insomma, è un po' fatica, però dai, si va avanti. Loris, questo vitelino quanti giorni ha, si può dire giorni? Quattordici giorni. Quindi è proprio da poco. È una manzina di primo parto che è nato piccolino, che è stato un bene così, che me lo sono trovato già nato. Quindi alla mattina sei arrivato in stalla ed era già qua. Era già qua ed è molto vivace, la chiamo, viene, dai, sembra un bambino dal faccino, non vede. Ma Loris, ma Simone sta prendendo su bene il lavoro, insomma, vogliamo un commento? È più bravo di me. Beh, insomma, questo è un bel complimento, Simone. Beh, sì, certo. Ma qua c'è in prospettiva anche la volontà di ampliare l'azienda, quindi con più esemplari, Simone, oppure diciamo che la dimensione è questa? La struttura ha una determinata grandezza, dopo servono dei numeri, servono delle metrature, quindi come obiettivo qui siamo già a numero, si può dire, perché comunque vengono, ripeto, ci vuole una certa metratura, ogni animale deve avere il suo spazio, perché poi subentra il benessere animale, quindi non puoi stringerli come allevamento intensivo. Sì, adesso noi le vediamo in questo momento in cattività, in realtà c'è un grande recinto, quindi le vacche, insomma, stanno molto bene, quindi possono assolutamente uscire e avere il loro spazio vitale. Esatto, infatti, perché altrimenti sarebbero, ripeto, ci vuole una metratura anche per loro, sarebbero poi troppo chiuse, troppo, non hanno più il loro benessere animale. Bene, allora, ringrazio Simone, ringrazio Loris che ci hanno fatto vedere questo bel allevamento. Noi torniamo in agriturismo perché Massimo ha detto che ci fa assaggiare la sua carne, va bene? Benissimo. Ci rivediamo tra un po' e intanto a proposito di quello che sta succedendo, insomma, nel campo agroalimentare e quali sono i danni che sta un po' provocando l'economia del coronavirus, sentiamo il parere adesso di Cristiano Fini, presidente della Ciemilia Romagna, in merito a questo tempo. Un virus che mette in subuglia anche il mondo agricolo, quindi le produzioni agroalimentari, innanzitutto va detto che, insomma, da questo punto di vista le derrate sono garantite comunque. Sì, comunque gli agricoltori continueranno a fornire le derrate e il cibo per gli italiani, ma anche da esportare. Va detto che le misure precauzionali che sono state prese dalla Regione e dal Governo sono misure giuste, perché noi dobbiamo contenere il più possibile la diffusione di questo virus e quindi dobbiamo bloccarlo, fermarlo. È chiaro però che queste misure si portano dietro dei problemi, problemi che si riversano tutti quanti sull'economia e sui consumi. Quindi per noi è sicuramente un problema, l'auspicio ovviamente è quello che finisca tutto il prima possibile, che ritorni a partire l'economia, che ritornino a partire gli investimenti, di conseguenza i consumi, e noi poter commercializzare più serenamente le nostre merci, ribadisco, in Italia ma anche all'estero. Quali sono le misure più urgenti che vengono richieste, in questo caso anche dall'economia e dal comparto agroalimentare? Le misure più urgenti che noi chiediamo e che chiederemo anche al tavolo mercoledì, quando incontreremo il Premier Conte, sono sicuramente il sostegno all'export e all'internazionalizzazione, perché noi abbiamo bisogno di collocare le nostre merci all'estero senza alcun tipo di problema. Noi chiediamo una guerra, una lotta alle pratiche sleali che alcuni paesi europei, ma anche estro-europei, stanno facendo nei confronti dell'Italia, mettendo in cattiva luce il nostro paese e le merci che noi possiamo collocare tranquillamente all'estero. Poi noi chiediamo ovviamente il sostegno alle aziende, alle imprese, ovvero sospensione dei mutui, delle rate, sospensione anche dei contributi, sono tutte misure che noi in un certo senso abbiamo già visto all'interno del decreto sul sisma del 2012, che abbiamo vissuto purtroppo qui nella nostra regione, in Emilia Romagna. Quindi è chiaro che sono misure che devono dare ristoro alle aziende, alle imprese, poter guardare con prospettiva più serena al futuro, perché chiaramente oggi ci sono dei problemi, problemi contingenti che dobbiamo affrontare ma che dobbiamo superare tutti quanti insieme. Quindi siamo di nuovo a Palazzo Manzoni, Massimo abbiamo visto insomma una situazione un po' critica dappertutto, speriamo che sia solamente un momento passeggero, soprattutto per chi anche sta male, insomma per chi ha delle difficoltà e soprattutto per chi ha contratto questo virus che è molto pericoloso, lo sappiamo e ne stiamo parlando da tanto tempo. Cosa si può fare e cosa può fare un agriturista e cosa può chiedere un agriturista affinché ci sia un occhio di riguardo insomma anche per questa situazione che mette in ginocchio tutti coloro che lavorano nel turismo in sostanza? Allora se sicuramente ci sono due cose che sono importantissime, la prima è la salute, per fortuna e grazie a Dio siamo in un paese dove la struttura sanitaria è importante, è capillare e penso che quindi ne verremo fuori. Bisogna ringraziare tantissimo i medici, gli infermieri, gli addetti che stanno lavorando per cercare di monitorare al massimo questa situazione. È chiaro che per noi, come per tutto il comparto agricolo, la situazione è abbastanza critica, soprattutto ad esempio noi come agriturismi abbiamo il grosso problema sia sull'alloggio sia anche nella ristorazione che vediamo negli ultimi due settimane, i numeri sono decisamente crollati, non soltanto qui da me ma anche nei nostri colleghi che abbiamo interpellato. Qual è la domanda tipica che vi rivolgono quando telefonano per chiedere se c'è disponibilità oppure anche per dare disdetta? Diciamo che adesso soprattutto i Pito danno le disdette, dicendo che purtroppo hanno paura. La paura è quella che sta oggi minando il tessuto sia sociale e anche economico di questi territori. Quello che chiediamo è sicuramente che il governo, che lo Stato ci aiuti. Ci aiuti, abbiamo già fatto delle nostre richieste la settimana scorsa al Ministro dell'Agricoltura. Capisco che è un momento molto difficile per l'Italia, però è anche vero che dobbiamo essere sottenuti perché siamo comunque i custodi, i guardiani del nostro territorio, noi aziende agricole. E quindi per forza di cose dobbiamo essere aiutati per cercare di risollevarci e di risollevare in questa maniera anche tutto il paese. Bene, grazie Massimo. Abbiamo parlato di cose un po' spigolose. Abbiamo visto anche un'azienda, che è la tua, ma anche l'azienda di Loris, che è un'eccellenza da questo punto di vista interi di Romagna. Cedo la linea con i frutti dei da terra, noi ci salutiamo e poi mangiamo qualcosa magari... Quello che ci farai. Grazie a tutti.